Sì, adesso si viste, ma che cazzo fai? Ha sbagliato Alzo, è tutto contrario No, non fai cazzo, fai così Bacialo, me lo pavolo impazzito Ma io vado e lo bacio, va bene Ma vai, baciatemi Nicola non c'è Nicola non c'è, mi mangio per il panino di Nicola Perché non c'è? Perché doveva fare una cosa Oh sì, no sì Nicola Nicola, mi mangio per il tuo panino Oh, lasca Ma che facciamo oggi, quindi? Che facciamo oggi? Guarda, che pesce Oggi, tutte le dimensite Mi sembri una murena Salutate Hanno preso 12 minuti, anzi Un'ora e mezza E ora? 13 minuti Pappone, 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 pappone Ciao Un'ora mi riprendo da sola Masca di Ciao Ah, ho preso quella mani Lo hai preso quella mani Tu hai preso? Piscine Me lo farini e ho fatto cadere il telefono di Federico Sì, ti incolta Ah, vero, me lo cambia, me lo farini e mi ha fatto cadere il telefono Vediamo come Andiamo per la scena, riusciamo a fare qualcosa Premetto che Secondo noi è molto scarico Wow Riusciamo a fare, ruota solo su se stesso sta mince Bella Piano, piano Ruota solo su Selvaggio Piano, piano Come dagli erbio funziona benissimo Attenso Fermo Ma veramente Ma cammina in avanti, hai capito Fermalo Rispondi ai comandi ritardo, è assurdo Pappone, è un giocattolo di merda Mi potete risolvere, veramente Ecco, i negarussi Allora, che vero così da quando vola È magnifico, proprio Ma la pigliore Mi assicuro che poi la scena che vedrete sarà migliore Qualcosa ce la studiamo Rispondi ai comandi È arrivato Ardota, Ardota Capone, è una strada Ma la figlioli Torna Eccora, ora rispondo un po' ai comandi Capone, proprio po' Capone, proprio po' sono qua, sbrigati Cammina, salto, lo giuro No No Capone, grazie Capone, grazie Grazie a tutti.